Wow! Radio Discount e noi vi rimpriamo di gadget per il vostro gruppo, eh sì, eh sì, perché poi diventerà appunto un jingle come le nostre amiche, le nostre fans hanno già mandato, basta gridare Viva Radio Discount e poi mandateci un indirizzo dove noi vi mandiamo il pacco, il pacotto, il pacotto con i gadget di Radio Discount, è semplice, Viva Radio Discount! Viva Radio Discount! Viva Radio Discount!